e ciao a tutti qui da abel afc in questo video andiamo a vedere insieme come creare la tua lista degli obiettivi di mercato al fantacalcio ma prima di partire mi raccomando iscriviti al canale lascia un bel like qui sotto aiutaci a crescere e vai a vedere nel link descrizione fantacalcio pro e il primo passo che dobbiamo fare è quello di mettere sul tavolo di scrivere tutti i nomi dei calciatori che ci sembrano più interessanti quindi iniziamo a buttare giù su un foglio tutti i calciatori che conosciamo senza discriminazioni suddividendo soltanto per ruolo quindi dividi il tuo listone in quattro categorie portieri difessori centrocampisti e attaccanti cioè inizierai a mettere su un pezzo di carta tutti quelli che ti sembrano molto interessanti per la tua rosa e basta senza fare altre suddivisioni il secondo passo invece sarà quello di suddividere i nomi per importanza quindi non fare il pigro e una volta che hai messo la prima lista diciamo quella più grossolana inizierai a dividere in varie colonne distinte i vari calciatori infatti ho scritto qui sotto crea tre colonne distinte nella prima colonna a sinistra ci scrivi quelle che ritieni siano di prima fascia quindi secondo te i migliori in assoluto della lega di questa stagione nella seconda colonna centrale metti quelle che reputi di seconda fascia e nella terza colonna a destra ci metterai quelle di terza fascia e così via in questo modo suddividerai già il listone grossolano che hai e capirai subito su quali tipologie di calciatore puntare e il terzo passo che devi fare è quello di iniziare a restringere il campo in base al budget cioè iniziamo accanto ad ogni calciatore a scrivere una cifra che crediamo sia il valore del calciatore una cifra oggettiva del loro valore del mercato in base al budget di lega deciso quindi facciamo un esempio se appunto di maria che vedete nella foto arriva in italia quale sarà il suo valore se c'era la nostra lista cerchiamo di aggiungere un valore quindi una cifra che sia reale che sia una cifra che crediamo sia il valore oggettivo del calciatore ok in base a quanti siamo in lega in base a quello che sono che è il budget deciso dalla lega stessa quindi iniziamo ad aggiungere una cifra per ogni calciatore dopo il secondo passaggio e il quarto passo è quello di completare la tua rosa riempendo tutti gli slot senza sforare il budget tagliando gli eccessi quindi prima abbiamo suddiviso in base al ruolo abbiamo suddiviso in base all'importanza abbiamo messo una cifra quanta un calciatore poi iniziamo a cercare di capire come riempire con quei calciatori che abbiamo scelto tutte le caselle disponibili tutte le slot con un bel mix di calciatori provenienti dalle varie colonie di prima seconda e in base alla tua strategia diciamo e anche giocatori di terza terza quarta quinta fascia perché non potrai e vedrai subito che non potrai riempire con il budget che avete scelto anzi che con il budget che avete tutti i calciatori tutte le slot con i giocatori di prima fascia ma dovrai fare un bel mix e quindi non andare oltre però il budget cercando di essere di contenere veramente i costi e cercando anche soprattutto nell'asta iniziale di lasciare un po di fantamiglioni anche per l'asta di riparazione e il quinto e ultimo passo è quello di creare anche il tuo piano b quindi una volta che hai riempito tutte le slot che hai trovato i calciatori giusti cerca di fare anche una lista b e ti consiglio anche di fare una lista c in realtà per ogni calciatore che hai messo nella prima lista nella quella principale diciamo quella che ti sembra la migliore aggiunge sempre un riserva e poi dopo un calciatore anche ulteriore quindi sono tre calciatori per ogni nome della lista non buttare via i nomi che hai tagliato precedentemente cerchi di mettere accanto alla tua lista principale per ogni giocatore scelto un ottimo sostituto così creerai in modo automatico la lista b e qui fin qui è molto semplice in caso non riesci a prendere il calciatore che avevi individuato nella tua lista a durante l'asta punterai sul tuo buon rimpiazzo è fondamentale ragazza avere quando vai a un'asta di fantacalcio quando vai a fare il fantacalcio avere non soltanto una lista ma avere altre liste perché in caso durante l'asta non riesci ad ottenere molti di quegli obiettivi che avevi prefissato è comunque qualcosa che ti ti salva il fondo schiena durante l'asta bene per questo video è tutto come avete visto sono consigli sono passi molto semplici che se fate in maniera precisa seguendo come vi ho descritto prima alla fine ti ritroverai con una bella lista per il tuo fantacalcio mi raccomando ragazzi iscrivetevi al canale lasciate un bel like qui sotto così ci aiutate a crescere e anche un commento qui sotto e va a vedere anche nel link descrizione fantacalcio pro ci vediamo presto qui da abel afc ciao a tutti